Ben tornato, ora che conosci la vita dell'assassino, hai voglia di combattere e di unirti a noi? Diacono carica il file. In arrivo. Abbiamo rubato un file all'abstergo il mese scorso e contiene informazioni incredibili. Non condividiamo questa roba con chiunque. Se premerai play, ti unirai agli assassini. Ma se vuoi combattere i Templari, se hai intenzione di salvare il mondo dalle grinfie dell'abstergo, premi play, siediti e preparati alla verità. Ottima scelta. Ora stai con gli assassini, iniziato. Nel 1957 prese piede la teoria del DNA umano su modello a tripla elica. Alcuni anni dopo, Watson e Crick demolirono quella teoria in favore del modello a doppia elica. E oggi sappiamo in modo inconfutabile che la doppia elica è la base della vita. Allora perché il modello a tripla elica pareva valido? Perché i raggi X di Rosalind Franklin sembravano confermarlo? In realtà i primi test vennero effettuati su piccole tracce di DNA dei precursori, in rari geni di un'antica razza ibridata con noi. Ora sappiamo che il DNA a tripla elica è la base del genoma dei precursori. È una stele di rosetta genetica. Se potessimo leggerlo e decifrare il DNA dei precursori, non c'è limite a quello che potremmo scoprire. Con la tecnologia dell'Animus avremo accesso per la prima volta alla storia dei precursori. Scopriremo antiche lingue e antiche tecnologie perdute da recuperare. Provate a immaginare cosa potremmo fare con il sapere racchiuso nei frutti dell'Eden. Scoperte da fare impallidire l'ascensione. L'anno scorso abbiamo ricevuto un'incredibile campione di DNA da un donatore che aveva addirittura un gene dei precursori su 25. Il nostro lavoro comincerà da qui. Il nostro scopo è svelare la tripla elica, la sequenza del genoma dei precursori e migliorare il mondo per sempre. Benvenuti al Progetto Phoenix Ecco a che punto siamo. L'anno scorso l'abstergo ha ottenuto il corpo di un uomo chiamato il saggio, uno dei pochi umani ricchi di DNA antico. Hanno iniziato a cercare altri saggi nel presente e nel passato. Più l'abstergo ne trova, più sarà vicino al suo scopo. Abbiamo bloccato i tentativi di trovarne altri, ma l'abstergo non si fermerà finché non avrà un genoma completo. Allora, perché Arnaud Dorian? Perché un assassino nella Francia rivoluzionaria? Sappiamo che durante la sua vita Arnaud è entrato in contatto con un saggio. Devi scoprire quando e dove è avvenuto l'incontro. Se Arnaud era presente alla sua morte, condurrà l'abstergo dritta al suo corpo. E noi dobbiamo arrivarci prima. Qui entri in gioco tu, non sarà facile. I ricordi genetici vanno rivissuti in sequenza per avere dati stabili. Ma crediamo che sarai all'altezza. E non sarai solo. Altri iniziati e assassini come te stanno facendo la loro parte in questa guerra. Se ti serve aiuto o addestramento, puoi rivolgerti a loro. Bene. Carico la prossima sequenza. Ho qualcos'altro per te. Più tempo trascorri con Arnaud, più avrai dati per migliorare la sincronizzazione con lui. E per avere le sue abilità. Vieni, guarda un po' qui. Vieni, guarda un po' qui. Un'ultima cosa. Mentre eri impegnato, ho chiesto a Diacono di scavare nei ricordi di Arnaud. Non stavo a fermo un attimo. Vedi quel segno? È una missione co-op. Non so tu, ma io adoro giocare in gruppo. Ho pensato che la cosa potesse piacerti. Queste sono missioni che Arnaud ha compiuto con altri assassini, per darti un'idea di come funzionava all'epoca. Entra nei glitch e saprai tutti i dettagli. Te li ho assegnati sulla mappa.